L'episodio 43 del corso di VBA parte 1 di 2 su come creare dei form in Excel, cerchiamo di capire prima cosa sono dei form e è molto facile, ci basta aprire la formattazione condizionale, nuova regola, questo è un form, vedete, è una finestra dove possiamo selezionare dei valori e fare qualcos'altro, a riferenza dei banali dialog che ci diceva, ehi c'è un errore, ok, sì, no, eccetera, qua invece andiamo a selezionare cose, andiamo a modificare valori, eccetera, oppure, pensate magari alle formule, vado qua, altre funzioni, vedete, selezioniamo le funzioni, le possiamo inserire e quant'altro, questo è ciò a cui vogliamo ambire, più che altro vogliamo capire cos'è, come si fa, come si manda schermo e come possiamo collegare i vari eventi. Al momento questa parte qua non è che ci serva più di tanto, quindi la possiamo rimpicciolire, ci spostiamo nel nostro progetto, tasto destro, inserisci user form, eccolo qua, e dovrebbe esservi comparsa, ma è comparsa sull'altro schermo, questa finestrella qua, con i vari comandi che possiamo inserire nel form. Oggi ci invitiamo a vedere le basi di design, come inserire una textbox, i bottoni, una label e gestire eventi semplici. Allora, puliamo qua sotto, e la prima cosa su cui voglio concentrarmi è questa parte qua sotto delle proprietà, come vedete abbiamo tante, tante, tante proprietà, colori, background, border color, se vogliamo mettere evidenziatore giusto per vedere qualcosa. Continua a sparirmi questa finestrella sull'altro schermo, non fateci caso, ve la riporto quando mi serve. E qua abbiamo una cosa importante che è il nome. Questo nome è ciò a cui faremo riferimento nelle macro per richiamarlo. Quindi se state utilizzando un form per inserimento di un nome o di una persona, io direi di fare form, inserimento, persona. Così sapete tornarci velocemente, poi qua in alto c'è il caption, lo vedete, inserisci persona. Per il resto, a parte il font, i colori, potete giocare con l'altezza, le altre cose non è che ci interessino molto onestamente. Direi che possiamo fare play e vederlo in funzione, vedete, è una finestra come tante altre. Al momento è vuota e adesso ci andiamo a lavorare. Dunque, la prima cosa che vogliamo inserire è un'etichetta, la cosiddetta label, eccola qua, vedete che è una label, mannaggia. È una label, la possiamo ingrandire, postare, se si sa prenderla, vedete, possiamo allargarla, rimpicciolirla. Al momento la lasciamo così. Dentro abbiamo il name, che fa riferimento sempre alla parte di codice, mentre invece il caption è ciò che l'utente vede. Ricordatevi che ogni cosa in un form, si chiama form control, sono i campi, i vari campi, ma conta anche per le label, hanno due tipi di identificatori. Il testo che l'utente vede, che può essere nome persona, nome staccato persona, e l'identificatore livello codice, che non può essere staccato, quindi sarà tutto attaccato, nome persona. Perciò potreste fare una cosa del genere, vedete, oppure sapendo che siamo nel form persona, potete scrivere solo nome, onestamente. Mentre qua invece lo andremo a mettere in maiuscolo. Un'altra cosa che possiamo aggiungere è, ad esempio, una casella di testo. Ci sono un po' di cose che possiamo mettere. In realtà al momento ci concentreremo in questo primo video su le cose essenziali, poi nell'altro video guarderemo altri elementi un po' più complessi. Adesso andiamo di casella di testo. Io metto una casella di testo qua e noi saremmo tecnicamente a posto. Io faccio play, vedete, che abbiamo la casella di testo con l'etichetta. Fanno un po' schifo, perché? Perché dobbiamo sistemarli. Quindi possiamo prenderli entrambi. Andiamo su formato, allinea, e vedete che possiamo spostarli a destra, a sinistra, eccetera. Ma noi cominciamo con rendi uguale, altezza, ecco, magari facciamo, scusatemi eh, riduciamo qua magari l'altezza così. Poi li riprendiamo entrambi, formato, rendi uguale, altezza, perfetto. Dopodiché formato, allinea, a sinistra, e adesso dobbiamo solo spostarlo. Ups, è un disastro guarda con sto coso. Lo spostiamo un pochino in alto. Quindi col formato, come potete vedere, possiamo andare ad adattare, dare spaziatura, possiamo centrarlo nel form. Vedete, asse verticale, oppure asse orizzontale. Io adesso lo voglio allineare a sinistra, però magari c'entra nel form, giusto per farvi vedere, asse orizzontale. Torniamo indietro, e se io faccio play, vedete che siamo riusciti a sistemarlo. Inutile fare un masterclass da 20 ore su come fare i form. Cominciate con cose neanche così eclatanti, poi pian piano migliorerete. Tenete conto che comunque questi sono gli strumenti che avete a disposizione. Non stiamo lavorando con applicazioni mobile di alto livello, non stiamo facendo roba web. Lo vedete, l'interfaccia grafica per far ste robe è il livello che è, è bruttina, quindi siamo un po' limitati. Comunque il risultato non è neanche niente male, per quello che può essere il risultato va assolutamente bene. Ora ci manca un'ultima cosa che è il bottone. Quindi se io vado qua, prendo il bottone e io prendo il pulsante di comando. Ecco qua, questo è il nostro pulsante di comando che magari scriviamo come invia. E qua come caption mettiamo invia oppure conferma. Se volete potete mettere anche annulla, in realtà però c'è la x qua in alto, perciò non serve. E noi possiamo poi prendere 1, 2 e 3 e fare formato rendi uguale larghezza. Non volevo così. Perfetto, riprendiamo tutti insieme, è molto meglio. E poi magari possiamo ridurre un pelino l'altezza. Benissimo, abbiamo una cosa un po' bruttina. Però abbiamo il nostro nome, inseriamo il nome e confermiamo. Adesso quello che ci rimane da fare, visto che sappiamo come possiamo lavorare con un form molto basico, è capire A, come possiamo chiamare questo form da una macro, P, come possiamo inserire codice all'interno del nostro form per ottenere i risultati. Allora, partiamo dal principio. Modulo 2, da qua io tolgo tutta sta roba e faccio riferimento al form. Quindi forminserimentopersona.show, molto bene. E se io faccio partire con F5, avete visto che me l'ha mostrato. Dove ho preso questo nome? Questo nome l'ho preso da forminserimentopersona, vedete? Esattamente come l'ho chiamato, ce l'ho qua in alto, quindi posso fare in qualsiasi momento riferimento. Vedete? È lo stesso nome che ho qua, forminserimentopersona. Ho guardato qui, ho fatto .show. Andando perciò a chiamare la macro, comparirà quello che è il form. Adesso però cerchiamo di capire al di là di questa parte qui, perché sappiamo adesso usarlo all'interno della macro, poi dovremo assegnare il valore di ritorno. Quello che ci interessa però è cominciare effettivamente a lavorare dentro il form. Quindi, cosa possiamo fare? Per ora limitiamoci sulla conferma. Poi in realtà potreste mettere col doppio clic, vedete? Potete avere il textbox one change, quindi on change della textbox. Se noi torniamo un attimo qui, e io premo, vedete che la textbox si chiama textbox one, mentre questo si chiama nome. Però questo è il nome, ma è l'etichetta o label. Quindi potete chiamarla ad esempio label nome, una cosa del genere per capire cosa state facendo, e questo potrebbe essere effettivamente input nome. Qui invece abbiamo conferma e potrebbe essere button oppure bottone invia o bottone conferma. Cercate di essere molto precisi in questa nomenclatura e tenerla costante. Non continuate a cambiarla. Magari nel corso del tempo passerete a nomenclature diverse, perché cambierete come persone, come programmatori. Però in quel momento, ad esempio in quell'anno che lavorate con VBA, cercate di essere costanti. Se cambiate, cambiate tutti i form. Cioè non è che un form deve essere nome e l'altro invece è persona nome. Se l'altro form riguarda i clienti, è clienti nome, clienti cognome. Non che avete clienti nome e poi cognome. Quindi cercate di avere quella che è una sorta di costanza. Detto questo, io vado qua, faccio doppio clic. Vedete che abbiamo il clic sulla label, ma non ci interessa. Oltre al fatto che è tutto private, quindi l'utente non lo vede. Abbiamo poi il change sulla textbox, che in realtà è stata cambiata. Perciò dovremmo aggiornare il nome, ma quello che ci interessa è il bottone invia. Sul clic che cosa possiamo fare? È molto semplice. Debug.print. Cominciamo con le cose più basiche, ma andiamo a schermo. Ciao. Noi andiamo di qua. F5. Perfetto. E se io confermo, vedete che ottengo ciao scritto sotto. Il prossimo passo è prendere... Devo chiudere qua. Il prossimo passo è prendere ciò che c'è scritto qua dentro. Vedete che è input nome, che è quello che ci interessa. Dobbiamo prendere il valore e mandarlo a schermo. Per prendere il valore abbiamo due alternative. Allora, la prima è passare per form inserimento persona. punto input nome, vedete che me lo trova, punto value, quindi posso fare così e proviamolo. F5, io scrivo QWERTY, QWERTY va bene, conferma, vedete che abbiamo QWERTY, oppure scriviamo Edoardo Rossi, tutto attaccato, confermo. Quindi vedete che prende effettivamente il valore, oppure se non vogliamo ogni volta scrivere quello che è il nome del form, anche perché siamo dentro il nome del form, possiamo utilizzare quella che è una scorciatoia, ovvero scrivere me, me. Perché utilizziamo me? Perché arriva dalla programmazione d'oggetti di altri programmi, usereste this, ed è esattamente la stessa cosa. Per chi non ha mai programmato, me fa riferimento appunto a me stesso. Pensate, è in inglese, quindi me, ma me e me sono la stessa cosa. Quindi fa riferimento a me stesso. Ma me stesso chi? Beh, noi dove ci troviamo? Ci troviamo dentro form inserimento persona. Quindi quando io scrivo me stesso, me stesso chi? Me stesso form. Di conseguenza me stesso form, input nome, ed effettivamente dentro questo form c'è un input nome, che è questo qua. Spero di aver reso l'idea. Torniamo sul codice. Potete tornare sul codice, vedete, da qui in alto, quindi siete su inserimento persona. Codice, visualizzazione oggetto. Codice, visualizzazione oggetto. Va bene? Che è molto più facile. Dicevo, di conseguenza utilizzando me, stiamo dicendo io form in cui sono dentro, perché questo è il mio file, il mio input nome, punto value. E io vi dimostro che se faccio invio, scrivo qualcosa di strano, confermo, ottengo esattamente lo stesso valore. Non è finita perché? Non è finita perché dobbiamo effettivamente chiudere il form una volta che lo abbiamo confermato. E abbiamo due metodi. Allora, il primo è utilizzare unload. Unload vuol dire andare, tra virgolette, a desincronizzare. Ve lo chiamo così, cioè sarebbe scaricare, ma non scaricare download. Cioè, abbiamo caricato il form con i vari settaggi, andiamo a fare il contrario. Mentre invece abbiamo la possibilità di fare hide. Hide vuol dire nascondi. Sono due cose diverse. Mi spiego meglio. Se noi abbiamo F5, se noi abbiamo unload, e io ho qua del valore, ad esempio, e non lo confermo, e per qualche strano motivo lo chiudo con unload, quando poi lo vado a riaprire, non c'è un valore all'interno. Perché unload va proprio a togliere il caricamento del form. Con hide, quindi con nascondere invece, va a mantenere, rifacciamo F5, va a mantenere il valore. Ok? Di conseguenza potrebbe essere semplicemente scomparsa la finestra, e poi rivedo il valore. Allora, proviamo entrambi. Quindi, da qui, andiamo sul codice. Tutta sta roba qua a me non serve, per davvero. Sulla conferma, cominciamo prima con mi.hide. Perfetto. Quindi se io faccio F5, guardate un po', conferma. Poi ancora F5, c'è ancora il valore. Ok? Potrebbe essere una circostanza in cui magari volete tenere l'ultima cosa che avete scritto. Potrebbe essere una situazione. Oppure, possiamo andare per l'altra soluzione, che non è mi.unload, ma diversamente è unload.me. Ok? Perché questo è un metodo dell'applicazione, mentre l'altro invece era un metodo di cosa? Del form. Quindi il form.hide, mentre prima avevamo il form.show. Vedete? Mostra e nascondi. Per quanto riguarda, invece, unload, è proprio livello di applicazione. Lo so che può sembrare un po' complesso, sono cose a cui ci si abitua. Mientri che se è la prima volta può avere poco senso, poi ci si abitua. Detto questo, unload.me lo sto proprio chiudendo. Vi faccio vedere. F5, non c'è più il valore. Se io scrivo, vado un po', anzi, scriviamo con i numeri per vedere che sto cambiando. Confermo, vedete? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Faccio ripartire, non c'è più il valore. Quindi è come se il form fosse stato interamente pulito e poi chiuso. In quel senso, unload, l'ho caricato il form, io faccio conferma, faccio unload, pulisco tutto, chiudo e ci rivediamo la prossima volta da capo. In quel senso, unload, scaricare da quel punto di vista. Direi che siamo andati abbastanza lunghini per aver fatto semplicemente una label, un input e un bottone, motivo per cui andiamo al prossimo episodio in cui andiamo a vedere list box, combo box, check box e qualche evento aggiuntivo. Ci vediamo nel prossimo video.